La mia musica è associata allo sport, io che non ne faccio proprio, però probabilmente c'è qualcosa in comune. La prima esperienza è stata a Pechino, dove ho avuto l'opportunità, questo dono meraviglioso, di poter dirigere la cena filarmonica orchestra nell'auditorno della città proibita, è un concerto completamente dedicato a Giovanni Allevi, mamma mia, se ancora ci penso. Invece adesso c'è il pianoforte solo, l'altra anima della mia musica, quella più intimista, quella più misteriosa forse. Grazie a tutti.